Buonasera dal TG6, in apertura di questa seconda edizione spazio alle elezioni amministrative. Tra pochi giorni si tornerà alle urne e anche a Roseto degli Abruzzi eleggerà un nuovo sindaco. Per il ballottaggio nessun apparentamento ufficiale. La sfida è tra Mario Nunes e William Di Marco. Al primo turno entrambi i candidati sono stati premiati dal voto disgiunto. Il servizio è di Giuseppe Vintino. Meno tre giorni alla seconda apertura delle urne per il rinnovo dei consigli comunali di cinque comuni abruzzesi. A Roseto degli Abruzzi si sfideranno Mario Nunes, sostenuto da una coalizione civica, e William Di Marco, candidato del centrodestra. In vista del ballottaggio, nel comune del Teramano non c'è stato alcun apparentamento ufficiale. L'incognita è su Chiricadra, quel circa 50% di preferenze ottenuto dai candidati sconfitti al primo turno. Nessuna pubblica indicazione di voto da parte dei candidati Ciancaione e Ginoble, mentre il centrosinistra del sindaco uscente di Girolamo appoggerà Nunes. Ovviamente ci siamo aperti dal primo giorno ad un apparentamento con i cittadini e non con i partiti. Un apparentamento fatto sui programmi, e il nostro è un programma ampio, certificato e sicuramente avvincente per la città di Roseto. Un apparentamento fatto sulle persone, e il mio essere persona tra le persone, come mi definiscono i miei candidati, e le persone che mi sono vicine, credo che riuscirà ad attrarre molti consensi. Noi un apparentamento l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto proprio con il popolo, nel senso che nemmeno con la gente, che ha un'accezione abbastanza, se vogliamo, ristretta. Invece il popolo è proprio quell'interagire con le persone e far capire in questo secondo turno i programmi, certamente, quelli che sono i progetti, ma anche chi siamo, da dove veniamo e che cosa abbiamo fatto per Roseto in passato. Entrambi i candidati sono stati premiati dal voto disgiunto. Nugnes, infatti, al primo turno ha conquistato il 30,65% dei voti, mentre la sua coalizione si è fermata al 29,72%. Di Marco ha ottenuto invece il 22,13% delle preferenze, circa due punti percentuali in più della coalizione di centrodestra. Ovviamente quella differenza ci ha fatto entrare nell'ultima tornata, cioè quella appunto che decreterà chi sarà il sindaco per i prossimi 5 anni qui a Roseto. La presenza di 328 candidati consiglieri, 21 liste, 5 candidati sindaci ha disorientato l'elettorato, che ovviamente si è trovato ad esprimere una doppia preferenza, quella sulla persona a lui più vicina rispetto a parentere, piuttosto che a stima, a rapporti, perché Roseto è una città, ma è al tempo stesso un paese. E quella poi sul futuro, e quindi la scelta sul candidato sindaco era una scelta importante. La grande stima e la grande responsabilità che questa stima mi dà è concretizzata anche in queste quasi 600 preferenze che vanno a sommarsi alle comunque tantissime preferenze che le mie liste hanno preso. Dialogo e decoro sono le priorità, qualora fossero eletti sindaco, rispettivamente di Nugnes e di Marco. La prima ordinanza che firmerò, ho detto in maniera molto singolare, è quella del dialogo, cioè metterci in una posizione di confronto con le opposizioni, in una posizione di apertura verso i cittadini, una posizione di apertura verso la comunità. Se proprio dovessimo scegliere qualcosa che deve partire da subito è il senso del decoro di Roseto. Noi siamo partiti da un concetto di tipo culturale. La nostra, oltretutto, la lista personale del sindaco si chiama tuttora identità culturale rosetana. E' fondamentale. Se noi partiamo dal senso culturale che sviluppa il senso di bellezza, non possiamo che riprendere in mano il decoro, soprattutto negli ultimi anni. Questo decoro è stato abbandonato ed è stata abbandonata soprattutto la manutenzione. E potrebbe esserci un ricorso del centrodestra sul voto nel primo turno nelle amministrative a Lanciano. Lo scarto minimo di voti che non ha consentito la vittoria al primo turno di Paolini potrebbe tenere sotto giudizio il risultato. Di lunedì intanto si accende la sfida nelle ultime 48 ore di campagna elettorale dove caccia alle preferenze. Il servizio è di Alfredo Primanta. E' la più classica sfida nel solco del bipolarismo, quella di Lanciano dove centrodestra e centrosinistra si affrontano al ballottaggio per la carica di sindaco. Filippo Paolini, già primo cittadino per due mandati in passato, contro Leo Marongiu, presidente uscente del Consiglio Comunale. Un testa a testa che vede in vantaggio, secondo i dati del primo turno, Paolini, che ha sfiorato il 50% dei voti, mentre si è fermato poco sopra il 42% delle preferenze Marongiu. Ma proprio la manciata di schede che non hanno consentito al candidato conservatore di vincere nella prima tornata e il successivo controllo chiesto dal centrodestra potrebbero tenere subiudice il risultato. Infatti Paolini è intenzionato a fare ricorso anche se auspica una vittoria sul campo. Faremo copia conforme degli atti, quella relativa ai sindaci già l'abbiamo acquisito perché la copia va assunta in comune e dopo insieme agli amici valuteremo se preparare o meno questo ricorso. Ricordo che ci sono 30 giorni da quando c'è la pubblicazione di questi dati, adesso pensiamo a domenica e lunedì, bisogna tornare a votare, questo ci interessa, fondamentalmente ci interessa vincere sul campo. L'obiettivo del centrodestra, che non ha fatto apparentamenti, è riportare gli elettori alle urne e convincere gli indecisi. Penso che uno strumento così importante come quello del voto è l'unica espressione di libertà che ci è rimasto, per cui io mi auguro che tornino a votare anche tutti quelli che l'hanno fatto nel primo turno e che naturalmente vadano a votare anche estensionisti. Nello schieramento che appoggia Leo Marongio nel frattempo, ampliatosi con l'ingresso dei 5 Stelle che hanno fatto l'apparentamento, c'è fiducia nel ballottaggio. L'obiettivo minimo di accedere al secondo turno è stato centrato, seppure per un soffio. Per il centrosinistra dunque la partita per riconquistare il comune per 10 anni a guida a pupillo è apertissima. Assolutamente sì, l'obiettivo era lasciarli un voto sotto il 50%, ci siamo andati molto vicini perché dopo al secondo turno, al ballottaggio, la gara è completamente diversa. Il voto si libera, non ci sono più relazioni pericolose, relazioni clientelari, amicali, parentali. Dove cercherete di convincere i lancianesi a votarli? Innanzitutto sulla motivazione e sulla velocità di esecuzione dei progetti che stiamo raccontando alla città. Vedete, mentre da una parte c'è chi continua a raccontare appena vincerò le elezioni, se le dovessi vincere, entrerò al comune, verificherò la macchina comunale, parlerò con i dirigenti, metterò tavoli, io sto dicendo tutt'altro. Appena vinciamo ci impegniamo subito su quattro temi importanti, lavoro, salute, barriere architettoniche, grandi eventi per i più giovani e soprattutto la risoluzione dei problemi dell'acqua. Ed ora il consueto aggiornamento con i numeri del Covid-19 nella nostra regione. Sono 45 di età compresa tra 1 e 93 anni. I nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo sono emersi dall'analisi di 2.282 tamponi molecolari e 4.336 test antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari allo 0,67%. 3.332 sono i nuovi guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2.550. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.397. 49 pazienti più 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica. 5 invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.343 più 11 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 25 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pescara. Il centro-sinistra polemizza con l'amministrazione comunale che nel giorno della manifestazione di Roma contro tutti i fascismi ha concesso la sala consigliare per la presentazione di un libro di Edda Negri Mussolini, nipote del Duce. Il presidente del Consiglio Comunale, Antonelli, spiega il senso dell'iniziativa. Paolo Renzetti. Polemica a Pescara da parte del centro-sinistra che critica l'evento calendarizzato per sabato 16 ottobre a Palazzo di Città per la presentazione del libro di Edda Negri Mussolini, nipote di Benito Mussolini, che presenterà la sua ultima pubblicazione dedicata alla nonna Rachele Mussolini. Il centro-sinistra ricorda infatti che nello stesso giorno a Roma ci sarà una manifestazione contro tutti i fascismi dopo l'assalto subito dalla sede della CGL. A Pescara si fanno passare per innocue delle azioni che invece non hanno niente di innocuo, ma sono studiate alla perfezione per far passare subdolamente alcuni messaggi che in realtà sono chiari. Questo è un esempio, il problema non è il libro, non è solo il libro di una nipote che racconta della nonna, il problema è che questa nonna era la moglie di Mussolini e il problema ancora più grande è che viene presentato da un'associazione che non conosciamo, che ha un nome che mi fa sorridere, un nome particolare, ecco che è un nome particolare circondata da Motti, da Nunziani, è un APS, si presenta come un'associazione di promozione sociale ma non è ben chiaro veramente qual è l'obiettivo dell'associazione o quali sono gli obiettivi di questa associazione. Quindi chiediamo di fare luce, oltretutto, ripeto, un'operazione che mi sembra un'operazione di revival nostalgica nello stesso giorno della Shoah di Roma e della manifestazione contro i fascismi, io non credo sia opportuno. Non si è fatta però attendere la risposta del Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, che ha spiegato come la data dell'evento era stata scelta oltre un mese fa, prima dei fatti di Roma, aggiungendo che oggi più che mai proprio alla luce di quanto accaduto nella capitale sarebbe importante mantenere i toni bassi. Si sta facendo una polemica assolutamente inventata perché l'individuazione della data da parte degli organizzatori, che è un'associazione culturale di Pescara, risale ai primi di settembre. La concomitanza è del tutto casuale, fortuita, che non è una manifestazione politica, è la presentazione di un libro su una figura storica di questo Paese, cioè la moglie di Benito Mussolini, che non sta al Presidente del Consiglio valutare il contenuto dei libri, perché altrimenti il Presidente del Consiglio Comunale diventerebbe una sorta di censore. Io non credo di dover ricoprire questo ruolo, pertanto chi risponde ai requisiti previsti dal regolamento ha il diritto di utilizzare la sala consigliare, peraltro a pagamento, perché l'associazione ha anche già pagato la tariffa corrispondente. Se ci sono ragioni di ordine pubblico che io non riesco peraltro a considerare a pieno, ci sono delle autorità in questo Paese, deputate, a intervenire eventualmente a far slittare la manifestazione, ma la competenza non è mia, credo davvero che faremmo bene tutti a tenere i toni bassi. Mi pare che di polemiche e di clima acceso già ce ne sia troppo in questo Paese, quindi almeno chi ha ruoli istituzionali bene farebbe, ripeto, a versare acqua sul fuoco e non benzina, non c'è nessuna provocazione, in realtà siamo in presenza della presentazione di un libro, come ho appena ricordato. Però il Sindaco, mi scusi Presidente Antonelli, proprio in questi minuti, attraverso un comunicato stampa, ha preso un po' le distanze da questo evento? Il Sindaco può prendere le distanze dall'evento, ma l'evento non è organizzato dal Comune di Pescara, non è organizzato dall'amministrazione e tantomeno dalla Presidenza del Consiglio, perché altrimenti potremmo andare a verificare anche la concessione delle sale di competenza del Sindaco e della Giunta, a chi vengono concesse queste sale. Non mi pare che sia questo il tema, francamente, ripeto, io terrei i toni bassi e eviterei di fare una tempesta in un bicchier d'acqua. Si attendono nelle prossime ore i risultati dei nuovi campionamenti dell'Arta Abruzzo, fatti sull'acqua delle condotte di San Valentino in Abruzzo Citeriore. La presenza del Clostridium però causa fortunatamente solo qualche problema gastrointestinale. Qual è la situazione a San Valentino, la luce delle prime analisi, dei primi campionamenti che l'Arta Abruzzo ha portato a termine in queste ultime ore? L'Arta Abruzzo è riuscita tempestivamente ad individuare quella che era una presenza che, così come sospettavamo, ha causato i malessere nella popolazione. Quindi grazie agli accertamenti analitici di questa agenzia regionale è stato individuato un determinato tipo di batterio che noi abbiamo immediatamente comunicato a tutti i soggetti interessati da questa vicenda. Siamo in attesa anche di conoscere la decisione che assumerà il Comune e anche l'ASL con riferimento alle loro competenze specifiche. C'è un rischio salmonella? Allo stato dalla prima tipologia di intervento analitico direi di no, ma non può essere escluso quando la serie di analisi sarà completa dal punto di vista sia microbiologico che dal punto di vista chimico. Speriamo che il quantitativo di acqua interessata sia circoscritto e che soprattutto la portata, la quantità di questa acqua interessata sia limitata in maniera tale che dopo la prima utilizzazione non ce ne siano delle ulteriori. È necessario reiterare in un arco di tempo le analisi, perché soltanto dopo una serie di analisi che riscontrano l'assenza di quanto già rilevato è possibile ritornare alla normalità. Siamo in attesa che vengano effettuati e vengano ritenuti necessari altri campionamenti, quindi vediamo la decisione dell'ASL che si occupa di tutto ciò che attiene alla salute umana e dopo noi faremo la nostra parte. Da quella che è la letteratura scientifica, da quelli che sono i risultati delle nostre analisi, possiamo ritenere che il fenomeno si limiti a qualche mal di pancia. Sulla riorganizzazione della sanità provinciale scendono in campo la Cigelle, Cisle e Will di Teramo che reclamano un nuovo ospedale DEA di secondo livello. Le sigle sindacali chiedono inoltre la condivisione della nuova rete ospedaliere Teramana auspicando che gli ospedali di Giulianova, Atri e Santomero restino operativi ed efficienti. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Le sigle sindacali Cigelle, Cisle e Will di Teramo chiedono all'ASL di Teramo di programmare in tempi brevi un confronto in merito al futuro della sanità provinciale, coinvolgendo oltre alle forze politiche anche i cittadini e le parti sociali per arrivare ad avere un piano strategico condiviso e che tuteli l'accesso alle cure da parte di tutti. Recentemente infatti il direttore generale dell'ASL Maurizio Di Giosia, assieme al proprio staff, al comitato distretto dei sindaci, allargato al sindaco di Giulianova e al presidente della provincia di Teramo, hanno discusso un piano strategico relativo al rilancio dei servizi sanitari, ribadendo la necessità di costruire il nuovo ospedale per garantire ai cittadini la giusta assistenza ospedaliera territoriale. Per i sindacati teramani è indubbio che la provincia di Teramo debba avere un nuovo ospedale con servizi potenziati, una strumentazione tecnologica moderna e un corretto numero di personale sanitario. Anzi, sostengono Cigelle e Cisle Will, in considerazione che questa provincia è l'unica in Abruzzo a non avere strutture private convenzionate, con posti letto per acuti ed erogando quasi totalmente servizi sanitari pubblici, il nuovo ospedale può e si deve candidare ad essere riconosciuto come ospedale DEA di secondo livello e non solo sulla carta. L'obiettivo è quello di avere nella provincia di Teramo una rete ospedaliere efficiente, efficace e soprattutto attrattiva per ridurre drasticamente l'attuale mobilità passiva e le liste di attesa per l'accesso alla diagnostica ambulatoriale. I sindacati uniti sostengono ancora che questo potrà essere possibile solo se gli ospedali di Giulianova, Atri e Santomero saranno integrati nella rete ospedaliera provinciale, così come è fondamentale progettare un sistema territoriale e di prossimità, prevedendo attraverso i finanziamenti del PNRR di collocare le case della salute in tutti i territori della provincia, a partire da quelli sprovvissi di ospedali in modo tale da garantire la giusta assistenza sanitaria a tutti. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, lancia l'allarme sul rischio della perdita di 8 milioni di euro di fondi governativi destinati alla tutela del suolo in Abruzzo a causa del presunto immobilismo della regione. Il servizio. Ci sono ben 8 milioni di euro sul tavolo e la regione Abruzzo rischia di rimandarli al mittente perché è incapace di intercettare progetti utili da finanziare. Il mittente, in questo caso il governo, poiché i fondi sono quelli messi a disposizione dal Piano Proteggi Italia, la manovra voluta dal Movimento 5 Stelle è partita durante il governo Conte con l'obiettivo di contrastare il rischio idrogeologico, avviare un risanamento ambientale e la difesa del suolo. Ma nonostante le risorse a disposizione, oggi sembra che nella nostra regione sia tutto fermo e il rischio di vedere persa anche questa opportunità per l'Abruzzo sembra più concreto che mai. Ad affermarlo è il vicepresidente della terza commissione agricoltura e attività produttive della regione Abruzzo, Giorgio Fedele. Purtroppo il rischio è più che fondato, c'è una vera e propria spada di damocle su tutto il nostro territorio. Il Ministero, anche attraverso interlocuzioni che ho portato avanti io in prima persona, ha dato un termine di dilazione che scadrà a fine ottobre. Se entro la fine di ottobre in regione Abruzzo, che è l'unica regione fra quelle italiane a non aver presentato neanche un progetto, pur essendo destinataria di oltre 8 milioni di euro per dissesto idrogeologico e difesa del suolo, non presenterà i progetti, questi soldi torneranno al mittende e a vantaggio delle altre regioni, perché ovviamente verranno ripartite nei loro confronti. Al danno si aggiunge la beffa perché tra tutti gli enti che ho interpellato con il mio accesso agli atti, almeno uno mi ha risposto tra i 5 consorsi di bonifica, destinatari sono consorsi di bonifica e comuni, uno mi ha risposto ed è il consorzio di bonifica Ovest che mi ha detto che un progetto c'è, immediatamente esecutivo e cantierabile, da circa 2 milioni di euro e che opererebbe una manutenzione straordinaria nella rete di canalizzazione all'interno del Fucino, manutenzione che sarebbe la prima da quando praticamente Alessandro Torlonia ha realizzato quelle opere. Un'opera necessaria che miticherebbe ed eliminerebbe molti dei problemi che annualmente, proprio di questo periodo, l'agricoltura subisce con gli allagamenti e i conseguenti danni, in un contesto che produce il 40% del pillo agricolo e che purtroppo non riceve la minima attenzione da parte di Regione Abruzzo. È qualcosa che come abruzzesi noi non possiamo assolutamente accettare. Torniamo a Pescara, dopo la riunione operativa in comune da parte della Commissione preposta è stato stabilito che nei primi giorni di novembre partirà la pulizia del comparto 5 della riserva d'Annunziana, andata a fuoco lo scorso primo agosto. Per la riapertura del comparto 4 avverrà non prima di un paio d'anni il servizio. La strada per la ricostruzione della pineta d'Annunziana è stata tracciata nei prossimi giorni. Arriverà sul tavolo del sindaco di Pescara Carlo Masci la relazione complessiva che indicherà le linee guida per la rinascita della pineta e che verrà stilata dai tre esperti Nevio Savini, Dario Febbo e Gianfranco Pirone, nominati nella Commissione comunale fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Il primo intervento da avviare entro novembre sarà quello della rimozione della grande massa di rifiuti che durante i sopralluoghi dei giorni scorsi sono stati rinvenuti all'interno del perimetro del comparto 5 andato distrutto nell'incendio del primo agosto scorso. Ieri abbiamo avuto il secondo incontro, avevamo avuto già una prima relazione dalla Commissione degli esperti, tre esperti che sono stati nominati dal sindaco che ci hanno riferito alcune cose. L'altro giorno siamo andati addirittura con il sindaco e con i nostri tecnici a fare un sopralluogo insieme a loro al comparto 5 dove abbiamo trovato delle cose assurde, faccio riferimento a ingombranti, bottiglie vuote, materassi, reti di materassi, calcinacci e ieri è stata presa la prima decisione che è quella di pulire, la prima cosa da fare è pulire. Adesso dobbiamo trovare il modo per non andare a compromettere il suolo, il terreno perché già si comincia a vedere qualcosa che riparte. Quanto riguarda invece la riapertura, almeno parziale, della riserva d'Annunziana, si può assessore ipotizzare una data in questo momento? La riserva d'Annunziana, immagino che lei faccia riferimento al comparto 4, su quello ci stiamo lavorando e penso che nel giro di un paio di mesi riusciremo a riaprire quella zona. Quanto riguarda invece il comparto 5 il discorso è diverso? Il comparto 5 sarà un discorso molto complesso e molto delicato, bisognerà aspettare forse qualche anno. Siamo ora alla pagina dello sport, in Casa Teramo probabile forfè per Cucurullo, mentre sarà sicuro assente Rosso, viste le non perfette condizioni di Birligea contro il Gubbio, il tecnico Guidi potrebbe far debuttare dal primo minuto di Dio nel tridente, offensivo a centrocampo potrebbe riprendersi una maglia da titolare Mungo. Ascoltiamo ora il difensore Azio Osmanovic, vediamo. No, ma comunque noi sapevamo già, arrivavamo dai risultati negativi, però con le prestazioni c'eravamo sempre. Comunque sperando che dopo la vittoria contro la Viterbese ci siamo sbloccati, adesso siamo andati avanti pure così la seconda contro la Pistoiese e speriamo di continuare su questa strada. Ma poi eravamo così pure all'inizio, non è che ci mancava solo il risultato positivo, una vittoria ci mancava, comunque secondo me pure all'inizio facevamo prestazioni di questo genere, molto aggressivi, molto importanti comunque come prestazioni, però come ho detto prima ci serviva solo quel risultato di sbloccare e di andare avanti, di continuare così, di avere più fiducia in noi stessi e di continuare su questa strada. Cristian, a destra, a sinistra, in difesa, ti manca solo centrale se dovesse servire? Comunque se dovesse servire non c'è nessun problema, pur in porta, comunque io sono sempre a disposizione del mister, quando mi fa giocare io rispondo sempre presente. Senti Cristian, secondo te dopo le prossime tre gare in una settimana si può avere un'idea di quello che può essere il campionato del termo in maniera un po' più definita? No, comunque noi pensiamo partita dopo partita, adesso ci prepariamo alla partita in tutto il gruppo, pensiamo prima a questa partita che è una partita veramente fondamentale, comunque loro sono pure una buona squadra, una squadra molto aggressiva, pensiamo a loro sabato e poi penseremo all'altra, all'infrascia settimanale. Essere tra virgolette il più esperto dei quattro dietro, come ti sei trovato? Comunque mi sono trovato, infatti all'inizio della partita vedevo comunque che c'era Piacentini, c'era Rillo e c'era Bellucci, comunque mi sono visto e ho detto io posso essere più grande, poi comunque ci sono i giocatori che hanno giocato pure loro, comunque c'è Piacentini che ha fatto più di quattro campionati, ormai che sta giocando in Lega Pro, ci siamo aiutati. Scendiamo di categorie, è durata appena quattro giornate la gestione tecnica di Stefano Senigalliesi a Nereto, dopo la sconfitta di Tolentino e con un solo punto in classifica la società del presidente Bartolini è esonerato all'allenatore Martigiano e lo ha sostituito con l'esperto Leonardo Bitetto, il quale cercherà di ripetere il lavoro positivo svolto lo scorso anno quando fu chiamato in corsa, sempre da Bartolini al Real Giulianova. Ascoltiamo il neotecnico dei Vibratiani. Tutto in Abruzzo, perché questa regione mi ha letteralmente rubato, insomma, dopo aver passato degli anni a Giulianova, adesso affronto questa avventura qui a Nereto, nell'entroterra, dal mare al centro della regione. La cosa è entrare in corsa, è sempre un po' difficoltoso, anche perché noi tutti allenatori preferiamo sempre cercare di dare da subito, anche durante la preparazione, una propria identità, la propria squadra, crearla. E' forse la parte migliore della stagione, anche perché lì non ci sono le pressioni sia della piazza, ma soprattutto i risultati. Per cui entrare in corsa è vero, l'anno scorso l'ho fatto e devo dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ed è lo stesso risultato del quale cercheremo veramente di poter arrivare, perché quella della salvezza e uscire dalla parte bassa, bassa della classifica deve essere una nostra priorità. C'è tutto il tempo davanti, per cui credo che si possa, con estrema fiducia, si possa raggiungere. Ecco, con ogni probabilità avrà preso visione, insomma, delle partite precedenti della squadra. Quali sono state, secondo lei, le pecche di questa formazione? Le pecche a volte sono partite iniziali, all'inizio il campionato non è mai veritiero, poi ci sono stati giocatori che sono arrivati pure in corsa, per cui sappiamo bene che quando arrivano giocatori alla spicciolata, gli stessi magari non sono prettamente subito pronti per affrontare gare importanti di campionato. Questa è una squadra che va amalgamata, soprattutto questo, che va amalgamata e che soprattutto veda come principale, così come la società, l'amministrazione, i tifosi qui a Nereto sperano di, si sono creati l'obiettivo soprattutto di fare bene, ma salvarci. L'obiettivo di tutte le squadre e anche del Nereto è quello di poter arrivare con più uomini e il più velocemente possibile davanti alla porta avversaria. Presentata ieri sera la nuova stagione agonistica della CETEAS Volley Monte Silvano, l'esordio nel campionato di Serie B2 per le ragazze di Gianluca Iachini avverrà sabato alle ore 18 presso il Pallaroma di Monte Silvano contro il Bari. Ascoltiamo le parole del tecnico al microfono di Sergio Zappalort. Gianluca Iachini si parte in Serie B2 dove la squadra è tornata ma è un primo impegno importantissimo contro il Bari, se ricordo bene, sabato alle 18 al Pallaroma, questo è l'appuntamento. Tu hai tanta esperienza ma l'emozione c'è sempre. Sì, veramente, è come se io personalmente avessi ricominciato da zero perché mi ero fermato un po', torno in B2 dopo diversi anni e effettivamente un po' di emozione c'è. State facendo belle cose voi della CETEAS Monte Silvano anche a livello strutturale della società? Soprattutto, a noi quello che interessa soprattutto è la struttura, strutturarci per un domani migliore ma soprattutto per la città che merita quello che, insomma, merita palcoscientici ben diversi. Parliamo di ciò che a un allenatore interessa di più, che squadra hai tra le mani? Innanzitutto ho tutta la squadra dell'anno scorso e quindi questo è importante. Confermatissima. Confermatissima e importante per ripartire. In più abbiamo messo tre innesti, naturalmente tre innesti che non sono capitati per caso, li abbiamo scelti rispetto a certe caratteristiche, quindi anche per questo devo ringraziare la società perché assolutamente ha fatto tutto quello che bene o male ci eravamo fressati. Li vogliamo citare velocemente, solo citarli così? Sì, c'è un nuovo attaccante Valentina Soppelsa che arriva da Oristano, poi c'è una nuova palleggiatrice che è Marianna Ferretti che l'anno scorso giocava a Teramo ma è del Giulianova e poi c'è Olena Di Pietro e anche lei del Giulianova, un attaccante mancino che mi serve un po' per variare un po' le situazioni. In un flash, obiettivo salvezza o qualcosa di più? Subito la salvezza e soprattutto la stabilizzazione della categoria perché è importante poi anche per tutto il movimento pallovolistico avere più squadre in questa categoria e oltre anche per dare un po' di spinta a quello che c'è sotto alla base e poi vediamo, vediamo come è questo girone che mi sembra abbastanza duro. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo, il programma sul mondo del ciclismo condotto da Jacopo Forcella e in studio anche Luciano Rabbottini. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di essere